Connettere manualmente una stampante di rete HP se la stampante si disconnette regolarmente da un computer o da un altro dispositivo. Per prima cosa è necessario stampare un rapporto di configurazione di rete o un rapporto di test della rete wireless. Nella maggior parte delle stampanti si può stampare un rapporto di configurazione della rete o un rapporto di test della rete wireless dal pannello di controllo sotto il menu Rapporti. Da un computer o da un dispositivo collegato alla stessa rete della stampante, aprire un browser web. Nel rapporto stampato, trovare l'indirizzo IP della stampante o gli URL del server web incorporato. Inserire l'indirizzo IP o l'URL nella browser web. Se non viene visualizzata nessuna pagina, provare un altro browser. Dal server web incorporato, aprire la scheda Rete. Nel riquadro di sinistra, fare clic sulla sezione o la pagina, scegliendo il tipo di rete, con cavo di rete o wireless. Fare clic sulla configurazione IP dal tipo di rete della stampante. Fare clic su IP manuale. Fare clic su Assegna nuovo indirizzo IP per ottenere automaticamente le informazioni IP. Se non è presente un pulsante per ottenere un indirizzo IP automaticamente, è necessario immettere manualmente l'IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito, come mostrato nel rapporto di configurazione di rete o nel rapporto di test della rete wireless. Fare clic su Applica per impostare l'IP manualmente. La connessione al server web incorporato potrebbe interrompersi dopo aver fatto clic su Applica. Stampare un nuovo rapporto di configurazione di rete o un rapporto di test della rete wireless dalla stampante per ottenere l'IP o l'URL aggiornato. Altri video utili sono disponibili su hp.com slash supportvideos e sul nostro canale YouTube, youtube.com slash hpsupportoitaliano.